Siamo nella seconda domenica di Avvento. Il nostro cammino verso il Natale procede velocemente e la parola di Dio oggi scende abbondante nel nostro cuore e nella nostra mente. Ci richiama ad una conversione, a ritornare al Signore con tutto il cuore, a preparare la via al Signore. La prima lettura è presa dal profeta Baruch. In una pagina traboccante di poesia, il profeta fa aggiungere alla città di Gerusalemme un messaggio di speranza e di letizia. I suoi figli dispersi ed esiliati ritorneranno ricondotti dal Signore stesso ed essa rivivrà un'era di prosperità e di pace. E' uno dei più bei canti della Bibbia che esalta la bontà di Dio verso il suo popolo. All'umiliazione Dio fa seguire la gloria, alla miseria l'abbondanza, alla tristezza delle lacrime la gioia. Ma questo gioioso incontro di Dio con il suo popolo presuppone che questo si ravveda dai suoi errori e delle sue infedeltà, causa delle sue sventure. Deve ricoprirsi del manto della giustizia. Già che Dio veglia sui suoi figli come il migliore dei padri, noi dobbiamo attendere nelle prove con fiducia l'ora del suo intervento, sicuri che essa verrà. Il Vangelo di Luca ci fa assistere all'inizio della missione di San Giovanni Battista sulle rive del Giordano. San Giovanni ha realmente ricevuto la missione di preparare i suoi connazionali alla venuta del Messia ormai alle porte. Per prima cosa Luca, storico, minuzioso e coscienzioso, si preoccupa di dare con precisione l'inizio della missione di San Giovanni e della pubblica apparizione di Gesù Cristo. Giovanni Battista ribadisse con energia una perfetta purificazione del cuore per trarre profitto dalla venuta del Cristo. Questo deve essere anche per noi l'impegno fondamentale durante il tempo dell'Avvento. Aprire nelle anime nostre una via regale per il Salvatore, lottando contro le asprezze del nostro carattere, mettendo fine ai nostri contrasti e alle nostre discordie. Non è meraviglioso aspettare qualche persona cara e preparargli una bella accoglienza? Ora, quando questo qualcuno è il Salvatore stesso, quale cura, quale generosità dobbiamo avere per prepararci alla sua venuta? Questo deve essere il nostro atteggiamento interiore in questo tempo di Avvento, per aspettare il Signore Gesù. Prepariamoci al Natale con una preghiera più assidua, vivendo la nostra conversione interiore con una confessione ben fatta, una confessione che ci porta ad una riconciliazione vera con il Signore e con opere di carità. A tutti auguro una buona settimana, buon Avvento e pace carissimi parrocchiani e carissimi telespettatori. Ora vi do alcuni avvisi per questa settimana. In questo tempo di Avvento viviamo anche una delle solennità più belle che onorano la Vergine Maria. Onoriamo la Madonna sotto il titolo di Immacolata Concezione. L'8 dicembre vogliamo venerare, vivere questo mistero della bontà di Dio, della grazia di Dio, rivolta a tutte in modo particolare a Maria. La solennità di Maria Immacolata è festa di precetto e c'è orario festivo. Martedì 8 dicembre alle ore 11.30 c'è l'adesione all'Azione Cattolica. È il giorno della festa dell'Azione Cattolica perché Maria Immacolata è la patrona di questa associazione. E per noi è una festa particolare perché due anni fa è nata qui nella nostra parrocchia l'Azione Cattolica. Carissimi parrocchiani, abbiamo un grave problema da affrontare. La nostra chiesa parrocchiale ha bisogno di interventi di restauro e di ristrutturazione. È un progetto che vogliamo portare avanti, affrontare con serietà. È un progetto che ci costerà tanto, non sarà semplice da affrontare, ma insieme cercheremo proprio di portarlo avanti con la massima cura e attenzione. L'architetto che ha fatto il progetto è Pier Vittorio Morri e ha fatto anche una relazione che è riportata sul nostro notiziario parrocchiale. Leggetela attentamente. Poche preoccupazioni. In quanto vi sono numerosi punti di infiltrazione delle acque piovane e fessurazioni nelle volte in muratura. E poi spiega nei dettagli gli interventi che sono necessari. Cercheremo tutte le vie per poter affrontare la spesa di questi interventi. Certamente noi cercheremo di collaborare perché tutti insieme riusciremo meglio ad affrontare anche questa situazione. Vi auguro una buona settimana e vi saluto tutti con il saluto francescano di pace e bene.